buonasera direi quasi buonanotte ormai ma tutto il giorno che faccio video sono riccardo sturla vogadri master instructor paddy testimonial mares da vent'anni sono tutte la mia vita che uso sempre mares tutto il giorno che ripeto sempre le solite cose cos'è che manca assi che non ho mai avuto problemi con la mares perché bisogna saper fare la manutenzione dell'attrezzatura se non si rompe allora oggi voglio parlare di pinne questo è l'articolo 420 415 sono le x wing da apnea in carbonio taglia 42 43 costano 433 euro prezzo di listino sono le migliori pinne al mondo in assoluto sono in carbonio carbonio speciale guardate che fin mares morbidissime leggerissime hanno un nuovo design hanno una curvatura che aiuta a pinneggiate ok e il sistema di aggancio è stato fatto al centro con un supporto che sta vicino al piede a differenza delle altre pinne che avevano invece gli attacchi più bassi e i ganci più più alti queste pinne sono leggerissime taglia 9 10 americana io 42 43 questo è il numero 66 la sessantasesima pinna fatta allora che differenza c'è tra una una bicicletta e una ferrara un abisso di differenza ok quindi queste sono una ferrara per andare a correre dietro scuoli volpe scuoli balena e altri scuoli pelagici chi se ne frega che modello è se è una mares x wing carbon come questa oppure le matrix carbon io uso anche le matrix oppure un altro modello c 740 mares sono sempre ferrari c'è pinne in carbonio come queste non ha importanza il modello un altro io uso tutte e tre queste sono le ultimissime che sto usando ok certo lo consiglio tutti quanti però stiamo parlando di top di gamma al mondo c'è 433 euro di pinne da destino non tanti se ne possono permettere però se uno vuole avere una bella pinna è sicuramente una spesa che non se ne pente ok spero di vedervi dietro sott'acqua pinneggiando ciao ciao grazie a tutti buonanotte